L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Grazie.